Dal mare Bandiera Blu di Milano Marittima, uno sguardo verso il Premier Resort. Waldorf, 5 stelle lusso. Premier Suite, 5 stelle. Le Palme e Spa, 4 stelle superior. Le Suite più emozionali. Le terrazze solarium più panoramiche. E le vasche idromassaggio private. Scegli la tua piscina preferita. E i tuoi momenti di relax al Wellness Body & Soul e Private Spa. La spiaggia privata Premier Pal Beach. La mini spa. E il ristorante Dolce Mare. Per le tue vacanze esclusive, scegli l'eccellenza di Premier Resort. a taste dei miei pescardi. Segui momenti. Le excellence complexity è la peggota moda per scar squire oppure. L'eccellenza di Casa. Hocio fa, che sia una piscina relazione di prima. Sai unoga mai mappucosa. Grazie a tutti.